eccomi ciao a tutti la foto è questa e ho scritto la pecorella è tornata all'ovile o almeno ci sta provando ma ricordiamoci che qui è arrivata melissa e melissa farà strage di tutti quanti secondo me melissa sa come abbindolarsi gli uomini lei sa il fatto suo poi allora qua era tutto a posto non ho portato cambiamenti qui l'orto ci ho messo solo ed esclusivamente melantane perché appunto fonzio è l'uomo delle melantane e allora ho coltivato solo melantane praticamente le dite incrociate se esce un fichi fichi sperare che non muoia nessuno di fichi fichi c'è una cosa assurda e soprattutto che non esca fichi fichi pericoloso è perché ve li guardate voi lattanti ve lo dico sfida oh è una vita che non vediamo una sfida dovranno cucinare al barbecue vediamo chi darà fuoco alla casa per prima facciamo le banale alla griglia la salsiccia ok perfetto a una delle due facciamo farla salsiccia a no questa è la salsiccia salsiccia e peperoni stiamo facendo sì ok dai costanza è stata brava costanza ti ha risparmiato ma perché dove me l'hai messo non lo so vediamo se fonzio la salva testiamo le capacità di fonzio delle ragazze se si salva ok pure lei tutta guarda qua melissa per piacere dai fuoco a sta casa non vanno a fuoco perché hanno già una vita e ma hanno livello uno c'erano tutte livello 1 niente niente da fare se salvata sarà fa il bacio a mano e offre una rosa no 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 ok pensavo dovesse prendere a schiaffi preoccupare che mi arrivo pure da te lei mi prendi a schiaffi lo sapevo non vi preoccupate è solo gelosa lui che strammatizza vieni qua la vuoi o no sta rosa no non c'è niente sono loro che sono brave sono loro che sono brave basta inutile che trovate scuse sono brave fichi fichi chi si prende prima di desi marisol prima di desi desi non ha avuto questo onore di fare fichi fichi con fonzio che peccato qualcun altro si prenderà questo onore allora chi sarà la fortunata a fare fichi fichi con fonzio facciamo un sondaggio mettiamo melissa noemi e costanza infatti abbiamo un sacco di aspettative su fonzio metti veramente che esce fichi fichi scadente ci delude wow mamma mia quante staranno rosicando le ragazze là dietro noi mi rimasta lì infassibile sì esatto perché melissa proprio quell'aria oh aspetta oh che carino che si crea con fuochi d'artificio no non ci credo non ci credo un altro fichi fichi fai vedere alle altre ragazze che fonzio è solamente tuo melissa fai vedere a queste ragazze da aiuto di città chi è la capa indiscussa aspetta aspetta qui voglio la foto fai noemi ok perfetto vediamo un po se sono pochi d'artificio oppure no speriamo se lo mancia sembra abbastanza calma forse ha preso la camomilla mi sembra abbastanza calma speriamo di no ma secondo me fonzio lupo è molto attraente anche da lupo ok uh fuochi d'artificio oppure qui aspetta cosa è uscito ho fatto fichi fichi con un lupo mannaro e per giunta lo rifarei no vabbè ma avete capito che c'è scritto ho fatto fichi fichi con un lupo mannaro e per giunta lo rifarei quindi ha detto wow è stata bellissimo farlo con con noemi e lo rifarei pure ma che stai ma dopo che loro ma costanza dopo che loro hanno fatto cose tutti infilino e c'è spuglio fare la pipì va bene ma costanza visto che sei qua va dammi una mano va vieni qua guardami ste melanzane ah ho capito è una è una come si dice è un trucco perché così non ci non ci tornano lei ha detto mo faccio la pipì qua dentro così non tornano a fare fichi fichi qua dentro però dovevi pensarci prima costanza perché ormai è tardi già l'hanno fatto invece noemi sta cucinando incendio incendio ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho fatto prendere un incendio la casa sì ma spegniti ragazza spegniti eh ma perché aveva la testa tra le nuvole stava pensando ancora a quel fichi fichi fantastico confonso si è distratta un attimo ha pensato a quello e ha dato fuoco a tutto no 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 nessuno ha visto niente non c'è questa cosa no no nessuno ha visto nulla rigiriamo è tarocca facciamo il sondaggio tra le ragazze vediamo chi deve abbandonare la casa e poi andremo appunto a vedere come dove dovranno andare quindi melissa olè pure lei primo bacio e dice scusa perché io devo essere l'ultima se poi adesso forse me ne vado meglio che gli do un bacio almeno posso dire che l'ho baciato pure io affonzio melissa è così allora sei venuta hai fatto i fuochi d'artificio e mo te ne vai pure bene è durata poco la tua la tua permanenza qui facciamo un cambio con desi giusto no melissa vattene di là melissa è rimasta di qua neanche il diavolo si infuria quando sim è geloso e offeso ma perché è tornata desi per quello si è arrabbiata così tanto desi fai attenzione qua c'è una lupa eh ti sei liberato di una vampira ma c'è una lupa qua ok vediamo un po la ruota che cosa ci dice ora che è tornata desi ma la ruota e cioè la ruota non è buggata va convenienza è quello il problema di sta ruota che va proprio a convenienza di là da giù tutte disgrazie assolute da di qua solo fichi fichi questa è la fattoria dell'amore oh guardate infatti loro continuano a flortare ah ok ho capito perché noi mi è così arrabbiata perché sta assistendo a questo oppure lo sapevo lo sapevo lo sapevo qualcuno mi spegne noemi vai fonzio bravo fonzio sei tutti noi grazie fonzio no la cappa ma abbiamo fatto di peggio sarà che cos'erano questi cosi allora sostituisci sostituisci questa te la tieni bruciata come ricordo eppure questi cosi qua li teniamo bruciati lei sa ancora ma sti popcorn ma che hanno passato sti popcorn ma dove li hai presi questi sono popcorn e non sono al cioccolato ve lo assicuro ma sta continuando a cucinare perché è arrabbiata e lei sta cucinando per sfogare la sua rabbia però con un coltello in mano io non ce la vedo bene fonzio finisce all'ospedale a mangiarti sti cosi lascia perdere vieni con me andiamo ad adesima ok ce l'abbiamo già fichi fichi perfetto allora andiamo di sopra perché la loro barra non è mai scesa ah c'è pure questa di doccia e allora andiamo qua in camera da costanza siamo terribili ecco qui finalmente dopo anni sei tornata allora sono fuochi d'artificio oppure no intanto è tutto questo noemi non mi sta dando fuoco a nient'altro per fortuna ma è molto arrabbiata sì ma fanno fuochi d'artificio con tutti finalmente adesso sei stata la terza non volevo dirtelo ma sei stata la terza ma no ma gli è cresciuta pure la barba a fonzio guardate non era così è ancora più barbuto adesso sembra un uomo più vissuto con sta barba tutta incolta tutta sfatto ma come mamma ho finito di raderti da la testa ai piedi e mo ti cresce la barba vieni qua allora forza costanza continua a badere a sti polli ma sono puliti sì il pollaio è pulito ma Daisy niente Daisy si è fissata si deve mettere in forma per fonzio dice finalmente sono tornata qua quindi mi deve mettere in forma per fonzio aiuto sono tutte qua oh mamma mia cioè tu da laggiù te ne sei accorta che stava flirtando con chi oh mamma mia aiuto noemi di nuovo infuriata giusto in tempo per l'appuntamento ma risolto e poi dobbiamo socializzare conversazione profonda oh che carini ok appuntamento oro e questo è prima della luna piena meglio approfittarne molto a disagio perché sei molto a disagio perché devi andare in bagno non te preoccupare ci penso io olè festeggiamo olè fuochi d'artificio ancora mamma mia ci sono rivali in vista sembrerebbe di no quindi tranquillo niente schiappi per fonzio no 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 vai su vai su ok sfida mamma mia aiuto mi è venuto male per un attimo ok ho lasciato che Daisy finisse il suo lavoro a maglia e un cappellino e adesso lo stiamo andando a regalare a fonzio come è apprezzato le calze spero che apprezzerei anche questo cappellino oh grazie perfetto allora togliamo l'autonomia perché sennò non si fermano più cosa stai dipingendo lei è una bambina che canta una ragazza che canta lei è una tegliera quindi questo lo mettiamo in cucina se vince e tu che cos'è questo è una spiaggia con una casetta sulla spiaggia scadente niente scadente niente lei ancora deve finire scadente mamma mia 89 84 74 brava Daisy questo ce lo mettiamo in cucina ok diventato tutto flirtante parla del matrimonio si diglielo parla del matrimonio diceva lo sai che io ti sposerei sono la ragazza giusta per te da sposarti cioè ma voi dovete ancora iniziare a fare le pulizie qua forza ragazze forza forza siete lente muoversi 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 siamo in una fattoria mica in una villa di lusso a non fare niente ok perfetto c'è la luna piena ok si sta trasformando trasformati ti faccio trasformare io perfetto ma ci andiamo a divertire in giro e poi chiudiamolo e poi cambiamo fattoria alla graffia graffia si deve sfogare se no non le passa è per il suo bene fidati allora voglio vedere quante cose può rompere un lupo mannaro no qui non può fare niente al frigo lo possiamo rompere pure la lavastoviglia olè sì così pigliatela con quel frigo maledetto perfetto abbiamo distrutto mezza cucina andiamo andiamo a distruggere i letti delle ragazze questo è quello di costanza vai distruggile il letto pure la televisione perché questa è la televisione in camera no non mi sto divertendo anzi sto dicendo mamma mia povera a casa assolutamente pure il computer di costanza rompi tutto poi pure questo questo non mi piace è brutto è brutto vai via sì è arrabbiata la dovete capire si deve sfogare no questo è il tuo letto mi pare no questo è quello di desi si distruggilo quello di desi perché desi proprio quella maledetta è tornata a fregarti il tuo ragazzo olè così si fa è passata la rabbia omicida a posto mi ho perso un po' di pelle a terra va bene ok mo mi tocca aggiustare tutto stannazione oh che è successo a voi qua allora elimina elimina ecco mo prima distruggo poi mi tocca pure riparare no il letto di desi glielo lascio così tutto nuovo guarda tutto come nuovo non è mai successo niente tutto tutto pure il letto di desi e niente noemi mi dispiace il letto di desi lo dobbiamo sistemare l'hanno detto a posto credo di aver sistemato tutto no avrò tanto una doccia ok mo cambiamo fattoria andiamo da andiamo da Aiden e vediamo da Aiden che cosa succede allora eccoci qua allora da Aiden c'è solo le novità cioè sono tornate le piante mucche poi ho preso un gatto perché appunto Aiden aveva le ciotole non lo so se io non volevo un cane però quel fatto che comunque non lo so Aiden ce lo vedevo più da gatto questo e qua c'era la ciotola allora praticamente poi c'era anche il tiragraffi fuori qua c'era questo e allora io ho messo le lettiere e basta io ho messo un gatto anche perché lui non è uno che si guarda gli animali e infatti Xina l'ho chiamata perché Xina che tratti hai? perché infatti è distaccata spirito libero spirito libero e predatrice quindi praticamente è un gatto che non ha bisogno di attenzioni quei classici gatti da campagna che infatti c'era scritto che vengono a casa soltanto per mangiare però per il resto del tempo stanno appunto fuori in giro sì infatti ma Aiden comunque sta lavorando perché appunto lui non si fida delle altre ragazze cioè non si fida delle ragazze dice no che non lavorano bene non sta lavorando pure lui Margherita visto che sei qui a non fare un cavolo c'è un orto da guardare alla forza è sirpa l'erbaccia e tu vieni ad innaffiare tutto forza forza a lavorare ragazzi muoversi giudice giudice vai giudice come dicevo ieri potete scegliere qualunque cosa potete scegliere se devono fare picchi picchi se devono avere un appuntamento se devono fare una sfida se devono fare uno scambio allora pronti con le orecchie a sentire queste ragazzuole cantare non lei ha già smesso no stavo scherzando ma Elena come canta margherita è brava non mi fa stolla 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 vabbè sto piacendo per piacere scusi lei sulla poltrona si fanno le unghie c'è il tiragraffi gli alberi di tutte e di più vieni qua meno male tanto alla fine sei l'unica persona con cui vai d'accordo quindi meglio che ha vinto lei vai questo magari è amore secondo me lui forse non deve cercare nessun'altra perché nessuno lo sopporta solo margherita quello è il problema no 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 vai su vai su vai su no ma tra tutti ma non potevo uscire con bananone con con coso perché con Aiden eh Ileonor non sottovalutare il mio Aiden vedrai che pochi d'artificio che farà lui è pazzesco ok è diventata molto flirtante pure lui eh mucca esci no non pulisci capanno è ormai l'abitudine Aiden lavora in continuazione olè primo picchi picchi pericoloso per Aiden aiuto perché non stai con l'ansia ok è diventata molto flirtante lei cioè è tornata molto flirtante abbiamo finito non hanno fatto i fuochi d'artificio Aiden come ti permetti allora dove sta la ruota eccola qua vediamo un po' vediamo un po' no di nuovo Agnes no Agnes viene sempre qui oh finalmente ho un pata vai così si fa no spero di no spero che si sia persa la cicogna vai stringi vai Agnes vai pam no 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 lasciate non devo arrivare andiamo a girare la ruota che manca mezz'oretta così vediamo che cosa c'è da fare sfida ole vediamo un po' vediamo un po' Margherita mi raccomando vinci perché sei l'unica intanto io mando Aiden a pulirsi l'orto da solo perché queste ragazze non sono brave a fare nulla ok siamo 5 a 3 brava Margherita ciao Agnes ciao è stato un piacere 5 a 5 Jessica è bravissima 7 a 5 vai Margherita devo farti battere tieniti il tuo uomo ok fermi tutti hanno finito Margherita ha battuto il gruppo Maria e Jessica brava Margherita tu sei formidabile Margherita è l'unica che sa quello che vuole dalla vita cioè Aiden discuti degli interessi però potrebbe benissimo starsene a casa però chi lo sa magari arriva qualcuna che è meglio di Margherita per ora c'è ha finita soltanto con lei sono troppo bellini però secondo me c'è qualche altra ragazza che potrebbe essere interessata Aiden ruota 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 vediamo che cosa ci dice la ruota questa volta fichi fichi non pericoloso ok fichi fichi con Aiden a chi gli facciamo pare fichi fichi che ha seri problemi Jessica non continua a pensare ma che che qua è morta pure Jessica un arresto cardiaco lei non ha visto il bananone lei voleva vederlo il bananone continuava a pensare a John Banana non lo so perché è delicata giornata peggiore di sempre per il tratto delicato ma no ma devi vedere John Banana era il tuo unico desiderio guardate qua lei muore pensando a John Banana salve la morte stava qui dall'altra puntata dall'altra puntata da mo finalmente ed ha detto oh era ora anzi John Banana ha puntato a morire qualcuno e niente abbiamo perso pure Jessica ma non è possibile qui ma che cosa ma allora tutte quelle con il tratto delicato alla fine muoiono in poche parole questa è la è la storia di sto tratto ma io dovevo fare fichi fichi e voi mi distruggete così il mio attimo sì si dà una mossa a portarsi via questa ragazza sì esatto Sony elimina Jessica non c'è più non c'è più manco volendo non potrebbe fare fichi fichi no come no ti prego Maria Maria prego non mi Eden è sembrato interessante ascoltare Maria che parlava nel dettaglio dei propri hobby ok però non mi rifiutare per piacere mi devo consolare ma qua non sale la barra non riesco non ci arriveremmo mai a fare un fichi fichi qua prova a stringerla di nuovo vediamo se adesso si lascia convincere dai su forza vieni con con nonno Aiden detto così è bruttissimo fai fichi 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 con Maria ce l'ho fatta che lavoraccio vediamo un po' se sono fuochi o non c'è niente si fuochi d'artificio con Maria mamma mia mi hai lasciato senza fiato vedete non morire Maria ti prego please eppure tu Aiden non morire no 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 mi rifiuto io io me ne vado me ne vado basta perché hai sempre Aiden si tratta bene lui lui c'è i soldi lui c'è i soldi con la sua fattoria fa i soldi infatti guarda qua abbiamo messo persino i laser per non far toccare la gente soprattutto questi ragazzi sui soldi uh mi sono perso un bacio qua sì 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 lui è molto tirchio ci tiene a queste cose Elena per te la melanzana primo bacio vai ah ma manco il primo bacio ti sei dato con Elena pettegola stringi ok è diventata molto flertante pure lui è molto flertante bacia Elena mo la baci sole esci mi serve il tuo capanno poi lui è un vero contadino lo facciamo solo nel capanno fuori vai fai fichi fichi ormai ha fatto fichi non ce la faccio ormai ha fatto fichi fichi con tutte allora vediamo se soffochi oppure no ma come no che cosa no fermi la morte inevitabile Hayden lo sai solo che non credevo che ci avrebbe pensato così pre no 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 bello bello tu resti qua con me non è capito tu non muori si dice primo fichi fichi quindi si ok mamma mia mi ha fatto vedere l'ansia ma che era quel bacio così appassionato wow forza vediamo un po' fatti i fuochi d'artificio solo con Maria l'ha fatti le galline intanto tutto questo se ne vogliono andare perché non le sto più guardando questi sono fuochi si fuochi d'artificio no no che sono figli basta fichi fichi pericolosi basta fine no ma mi prendi in giro vai su vai su brava ma fate sentire da lei da come cantano guarda sono nemmeno a metà quindi ne abbiamo ancora per un po' vai scusa hanno detto sfida io ho fatto sfida ma Ede non sta andando così bene Nando te lo dico io sta avendo molti problemi con queste ragazze discuti degli interessi allora la barra è già al massimo cioè è rosa e quindi allora facciamo qualche interazione amichevole così si alza allora vai ultimo giro di ruota vediamo che cosa succede dammi un jolly ormai ne ho uccisa una fammi ne arrivare un'altra no un'altra sfida no voglio un jolly oh se no la facciamo entrare noi perché se no ste ragazzi non entreranno mai in casa buttiamo un jolly da tutti cioè perché lui ne ha quattro qui sono tre qui sono tre qui sono tre quindi buttiamo un jolly in tutte le fattorie iniziamo da Hayden perché sono tante Sony quindi non puoi fare il sondaggio quindi ditemi in chat chi volete appunto inserire in fattoria allora da Hayden mettiamo Brigida Diana Maddalena Teti Chiara o Akasha ok allora Elon dice Brigida Brigida Sony Erika Brigida Marisol Brigida ok la vado con Brigida da Hayden così sono quattro e siamo a posto se no ste jolly non entreranno mai più poi da Fonzio oppure sono in tre le ragazze quindi facciamo entrare una jolly abbiamo Diana Maddalena Teti Chiara e Akasha che poi tanto ci saranno gli scambi quindi comunque gireranno però almeno appunto stiamo a pareggiare le cose da tutti ci sono quattro ragazze perché sono morte per quello perché erano quasi tutte con quattro ragazze ma sono morte la due quindi Maddalena oh siete tutti d'accordo oggi fate paura Maddalena ok mettiamo Maddalena qui dentro quindi giusto sono quattro ok siamo qua tu sei a posto l'ultima da Joe ok sì ce ne sono ancora tre ragazze che possono entrare allora sempre Diana Teti Chiara Akasha da Joe Banana sì siete sincronizzate due ho la pubblicità ok quindi Teti le dice Akasha Teti Teti ok vince Teti quindi Teti la mandiamo da Joe perfetto ok abbiamo ancora tre Jolly che appunto se escono nella ruota le inseriamo perché tanto comunque sono dispari perché per essere tutte uguali dovrebbero essere quattro ma sono dispari quindi dove andranno andranno però almeno adesso abbiamo pareggiato tutte quante le famiglie visto che abbiamo avuto due perdite di ragazze che non erano previste per niente allora almeno adesso sono tutti quanti uguali ok io ho fatto abbiamo fatto un po' di cose io spero vivamente che Aiden non diventi padre ma proprio me lo auguro Aiden non diventare padre ti prego e sono sono le sei grazie a tutti per la compagnia ci vediamo la prossima settimana appunto con delle nuove live ciao